Autostrade per l'Italia ha reso noto che sul ramo di allacciamento A4 Torino Trieste, A26 Genova Voltri Gravellona Toce e sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di lunedì 7 alle 6 di martedì 8 ottobre e dalle 22 di mercoledì 9 alle 6 di giovedì 10 ottobre, sarà... Grazie per la visione!